Jenny ha salvato e ha un'opera di casa è una grande ol'ora che lei va a trovare il modo ha detto mi chiede se non hai mai perduto e ha chiesto come si guarda il modo Io Mario accolgo te Claudia come mia sposa con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita Ciao! 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 Ciao!